Anziani seduti con una coperta sulle spalle, bambini che si stringono ai genitori, che i loro amici venuti a portargli un po' di conforto, ripetono siamo vivi per miracolo. Paura in via della Farnesina, a Ponte Milvio, a Roma, dove stanotte è crollato quasi completamente il palazzo di quattro piani al civico 5. In quel momento non c'era nessuno, tutti illesi. Uno dei condomini per tutti un eroe era ancora sveglio e ha lanciato l'allarme. In quei momenti pensi solo a cercare di salvagliarti e di te stesso e penso che insomma ce l'abbiamo fatta perché siamo tutti salvi qua e la fede. I vigili del fuoco, allertati dalle telefonate, sarebbero arrivati sul posto una ventina di minuti prima del crollo, avvenuto tra le 2.45.